Allora, essendo un po' un'avventurosa anch'io e curiosa, compiere l'impresa in sé direi sì, wow, ci proviamo, ma sono ben consapevole del fatto che per arrivare a compiere un'impresa come quella c'è una preparazione di fondo che è veramente tanta e il mio ostacolo è quella, cioè Andrea si sta già allenando adesso per dirti, per la sua prossima avventura o forse ho spoilerato già qualcosa, ecco, però per curiosità sì e quindi lo seguirei come gli ho detto, guarda ti seguo col camper Andrea, tranquillo, sei proprio Ce n'è bisogno, ce n'è bisogno Grazie Stefania, con grande maestria e professionalità tu sei una make-up artist e con un'esperienza ventennale in Italia all'estero sei stata scelta come guest model per QVC Italia la tua professione non è fare un trucco ma valorizzare una persona e la sua personalità Andrea, tu riusciresti a vivere 20 giorni nell'ambiente di Stefania? No, 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 guarda, mosso dalla curiosità, mi sarei curioso di passare una giornata, due, con lei però non penso 20 giorni, penso di sentirmi più a mio agio sotto la pioggia al freddo in Islanda Andrea, imprese sportive e allenamenti ti hanno plasmato in tutti questi anni permettendoti di superare la tua disabilità e di condividere con migliaia di persone meravigliose esperienze Stefania, un consiglio che daresti ad Andrea Continuo da retta la Berlendis, De Vincenzi Ok